ciao amici d'italiato games buongiorno buona domenica un video davvero inaspettato e di cui devo ringraziare alessandro villanova un segnalatore seriale che era un po si era un po perso fra le segnalazioni cioè non aveva più segnalato ma questa mattina mi ha fatto davvero un grande regalo fatto un regalo a tutti voi perché mi segnala che 37 minuti fa eugen nashilov il zio di strikers abbiamo parlato proprio venerdì scusate sabato sabato abbiamo parlato ieri finalmente torna a farsi vivo e ci racconta che è e ragazzi è tanto che non ci sentiamo oggi condivideremo mezzo mezzo video del gioco senza nessun tipo di edit e mostreremo il gameplay è una nostra alfa build del 23 gennaio scorso non ancora a bordo il nuovo sistema di animazioni non è insomma non è la versione più recente del gioco è quella del 23 gennaio scorso quindi di due mesi fa il video sarà pubblicato a luna uk time quindi sono le due le due del pomeriggio di noi noi italiani io sarò disponibile per un question and answer dopo di questo ci sentiamo presto insomma finalmente dopo tanto tanto silenzio è tornato a farsi sentire ufl vedremo questa nuova questa nuova versione di gioco la prima che vediamo del 2023 è già eugen ha messo un po le mani avanti dicendo che ci sono state ulteriori implementazioni che vedremo successivamente magari tutte le mie teorie che ufl potesse essere fifa che la fifa si allontanata di uk erano solo castelli in aria vedremo vedremo comunque io faccio solo delle ipotesi e delle teorie in base alle cose che accadono poi ne possono accadere altre ovviamente staremo a vedere staremo a vedere tutto quello che accadrà per il momento oggi pomeriggio vedremo questo video io non sono a casa come tornerà a casa farò un approfondimento su questo video lo andremo ad analizzare ma intanto ecco troverete il video sul sulla pagina ufl ufficiale di youtube e poi nel pomeriggio ne torneremo a parlare con calma lo vedremo in dettaglio andremo a vedere qualche qualche elemento in più però intanto oggi vi posso dare questa notizia ufficiale alle due del pomeriggio italiane arriverà questo video gameplay attesissimo di ufl quindi ufl strikers e eugen nashilov ancora una volta mantengono la promessa abbiamo detto che sarebbe arrivato a marzo arriva a marzo un po a sorpresa così improvvisamente un po dal nulla di una domenica mattina di fine marzo di inizio primavera e comunque vedremo a breve in giornata quello che sarà vi terrò aggiornati ringrazio ancora una volta alessandro villanova per la segnalazione scusate per il video non fantastico così ma non sono neppure a casa e quindi lo sto registrando dal mio smartphone però vi do questa notizia davvero davvero importante buona domenica ragazzi e presto ci risentiamo ciao